Sarà 4-3-3, dunque ritorno al passato. Del resto, dopo il match di Coppa con Pineto Baldini è stato chiaro. Bisogna capire se le nostre idee sono giuste con questo tipo di calciatori. Tradotto il 4-2-3-1, marchio di fabbrica del tecnico toscano sarà accantonato. E già perché a due in mezzo al campo il Pescara ha fatto una fatica enorme. Per questo sistema di gioco servono giocatori con caratteristiche specifiche. Franchini, come già sottolineato da tempo, è sostanzialmente un incursore. Non mantiene la posizione, ovvero quello che si richiede, nel 4-2-3-1 ai due mediani. Tra le linee il trequartista deve avere dinamismo in gamba. Nel Palermo Baldini poteva contare su Luperini, giocatore perfetto perché in grado, grazie alla sua corsa, di aiutare la squadra in fase di non possesso. Caratteristiche che non ha Tuniov. Davanti i due esterni devono coprire la fascia. Cangiano, di fatto un trequartista, non è il giocatore adatto o funzionale a questo assetto. Al resto, che non è poco, dovrà pensare il club. Mancano dieci giorni al debutto in campionato sul campo della Ternana, venerdì 23 agosto alle 20.45. Di fatto ci siamo. Servono rinforzi in tutti i reparti. Ratificato col Crotone lo scambio Colai-Crialese. Quest'ultimo, classe 92, formerà con Moruzzi la coppia di laterali mancini. Nel cuore della difesa uno tra Tuia e il 28enne svincolato Elio Caprodossi. Bisognerà altresì innervare la metacampo e l'attacco. In uscita, Plizzari destinato alla Venezia che tuttavia lo lascerà in prestito al Pescara. Pista estera per Merola che ha già cominciato e le ha differenziato dopo l'intervento di inizio giugno all'ernia inguinale e non al Pube. Tra circa dieci giorni l'ex Foggia tornerà in gruppo. Continua ad avere mercato Tommasini che si è appena ristabilito da guai di natura muscolare. Infine, in prova da venerdì scorso, l'olandese scuola Ajax JNM, classe 2003. Punta centrale di struttura ex Vis Pesaro di proprietà della Venezia. Baldini lo valuterà.